Docteur, aide-moi, je dois absolument faire pipi, mais je n'arrive pas à me lever, aide-moi s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, je vais vous chercher un... un... come si dice l'ordinario francese, come si dice, come si dice... Un truc pour faire pipi, ciao! Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Stefano e lavoro come medico in Svizzera. Oggi un video dedicato a un progetto sul quale ho lavorato tanti mesi e che ha come obiettivo quello di aiutare i tanti di voi in balia dell'infima lingua francese. Ma prima di iniziare, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e lasciatemi un commento per farmi sapere cosa ne pensate di questo video. Finalmente è arrivato il momento di rivelarvi il progetto sul quale ho lavorato tanti tanti mesi. Rulo di tamburi, un corso di francese medico. Eh già, questo progetto è nato dalla mia personale esperienza, dalle mie personali cicatrici, dal sentirmi costantemente incompetente, per non dire un vero idiota, nei primi periodi di lavoro in Francia. Tutto questo, oltre al fatto che non sono mai riuscito a trovare una guida che mi preparasse al lessico e al vocabolario necessario per lavorare in ospedale. E tieni a mente che nonostante il tuo livello di lingua possa essere molto elevato e su come ho imparato io il francese, ci ho fatto un video a riguardo e vi lascio il link qui in descrizione, niente ti prepara alla quotidianità del lavoro in ospedale e a tutta quella serie di termini tecnici e non che fanno parte del tuo quotidiano. Per apprendere questo, infatti, fino ad ora c'era solamente la dura via dell'apprendimento sul campo con tutto quello che ciò comporta. notti in bianco, mal di pancia e i tentativi in vani di non rispondere al telefono per non far vedere alle persone che in realtà non capivo niente di francese. Proprio per questo ho creato un corso che rispondesse al bisogno di comunicare con pazienti e colleghi. Un corso pratico, facile da consultare dal telefono, dal pc, sui mezzi, proprio prima di arrivare al lavoro e senza bisogno di avere due milioni di manuali con sé. Tutto concentrato per te, medico, infermiere o qualunque figura sanitaria con tutto ciò che è indispensabile conoscere per lavorare serenamente in un paese francofono. Questa serie di corsi, e già perché si tratta di una serie di corsi, attraversa tutti gli aspetti fondamentali del nostro lavoro. Dall'anamnesi all'esame obiettivo, dalla discussione telefonica con un paziente alla presentazione di un caso a un superiore. Il francese medico scritto da un medico, il titolo l'ho inventato io e onestamente mi sembra sempre di trovare dei titoli geniali, magari sono l'unico a pensarlo, ma... È già disponibile con il primo corso, l'anamnesi, del quale vi lascio il link qui sotto in descrizione. Un lavoro titanico per il quale mi sono appoggiato anche all'esperienza e alla capacità di una professoressa dell'Alliance Française di Parigi, che ringrazio molto. Ma se arrivato a questo punto ancora ti chiedi, ma perché dovrei comprare il tuo corso? Beh, ti dico soltanto che non ti prometto che non farai figuracce, ma ti prometto che sicuramente ne farai di meno. Se sei arrivato fino a questo punto, beh, bravo, perché ho deciso di mettere in palio due copie gratuite del corso Anamnesi. A partire da questo esatto momento e fino al 19 aprile alle 22 potrai partecipare all'estrazione. Per partecipare all'estrazione è abbastanza semplice. Ti basta semplicemente cliccare sul link qui sotto, riempire il form e poi scrivere nei commenti fatto o insomma quello che ti pare. I vincitori saranno contattati via email. Non vi resta che partecipare all'estrazione. Non vedo l'ora che possiate immergervi in questo corso e soprattutto di avere i vostri feedback sul mio lavoro. Anche per oggi è tutto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!